Cosa sta succedendo nel mondo delle criptovalute? Perché tutti parlano del prezzo del bitcoin come di una molla pronta a scattare? Queste sono domande che molti si pongono, specialmente alla luce delle recenti mosse istituzionali e delle previsioni economiche per il futuro. In questo video, esamineremo le ragioni dietro l'ottimismo crescente nel mercato delle criptovalute e perché alcuni esperti ritengono che il bitcoin stia per vivere una delle sue più grandi impennate di sempre. Ciao a tutti e benvenuti al nostro canale dedicato al mondo delle criptovalute. Qui troverete aggiornamenti di mercato, recensioni di progetti e consigli per aiutarvi a prendere decisioni informate nel mondo delle criptovalute. Vi invito a seguirmi al canale per essere sempre aggiornati. Uno degli sviluppi più rilevanti nel mercato delle criptovalute è l'aumento dell'interesse da parte delle grandi istituzioni finanziarie. Ad esempio, Goldman Sachs, una delle banche più influenti al mondo, ha recentemente incrementato la sua esposizione a bitcoin da 0 a ben 418 milioni di dollari, distribuiti in sette diversi fondi spot bitcoin. Questo è un segnale forte che indica come le istituzioni stiano iniziando a considerare seriamente le criptovalute come una parte integrante delle loro strategie di investimento a lungo termine. L'interesse delle istituzioni non è solo un segno di accettazione, ma anche un potente catalizzatore per il mercato. Quando istituzioni di questa portata decidono di investire in bitcoin, non lo fanno per speculare a breve termine. Si tratta di una strategia che guarda a lungo periodo, simile all'espansione di Internet negli anni 90 e 2000, che ha creato una ricchezza generazionale significativa. Allora, come oggi, l'accesso ai mercati in crescita non è limitato solo agli investitori accreditati. Chiunque può acquistare le stesse criptovalute in cui stanno investendo queste grandi istituzioni. Ma cosa significa esattamente quando diciamo che il prezzo del bitcoin si sta arrotolando come una molla pronta a scattare? Questo termine descrive una situazione in cui il prezzo di un asset, come il bitcoin, si trova in una fase di consolidamento, caratterizzata da bassa volatilità e da un progressivo restringimento del range di prezzo. Questo spesso precede un grande movimento, che può essere verso l'alto o verso il basso. Gli analisti ritengono che nel caso del bitcoin, grazie al supporto istituzionale e alle previsioni economiche, questo movimento sarà verso l'alto. Un altro fattore chiave da considerare è la politica monetaria. La Federal Reserve Fed degli Stati Uniti è attualmente al centro dell'attenzione, con molti che prevedono tagli ai tassi di interesse già a partire da settembre. Ma cosa c'entra questo con il bitcoin? La relazione tra i tassi di interesse e i mercati degli asset è complessa, ma in generale, tassi di interesse più bassi tendono a favorire gli investimenti in asset rischiosi, come le criptovalute. Se la Fed dovesse effettivamente tagliare i tassi, potremmo vedere un aumento della fiducia nel mercato, con un conseguente incremento dei prezzi delle criptovalute. Nonostante l'ottimismo, è importante rimanere cauti. Come sottolineato da Bobby Zoda, CEO di Bitstampusa, fare previsioni precise sul prezzo del bitcoin o di altre criptovalute è un'impresa difficile. Tuttavia, ci sono segnali positivi che suggeriscono un possibile slancio verso l'alto, specialmente nella seconda metà del 2024 e nel primo trimestre del 2025. Questo potrebbe essere il risultato di una convergenza di fattori macroeconomici favorevoli, combinati con un continuo aumento dell'adozione istituzionale. Un altro aspetto interessante è il possibile inizio di una nuova stagione delle altcoin. Quando parliamo di altcoin, ci riferiamo a tutte le criptovalute diverse dal bitcoin. Storicamente, durante i cicli di mercato, la dominanza del bitcoin tende ad aumentare all'inizio del ciclo per poi diminuire man mano che le altcoin iniziano a guadagnare terreno. Attualmente, la dominanza del bitcoin ha raggiunto il 19%, un livello che potrebbe indicare l'approssimarsi di una fase di crescita per le altcoin. La chiave del successo per le altcoin, tuttavia, non risiede solo nelle fluttuazioni di mercato ma anche nei fondamentali dei protocolli sottostanti. Gli esperti suggeriscono che man mano che le tecnologie blockchain si evolvono e attirano sempre più utenti, i token associati a queste piattaforme potrebbero vedere un aumento del valore molto maggiore rispetto a quello del bitcoin. Questo perché, mentre il bitcoin ha già una penetrazione di mercato significativa, molte altcoin sono ancora in una fase di crescita e sviluppo. La politica gioca sempre un ruolo importante nei mercati finanziari, e le criptovalute non fanno eccezione. Un recente sviluppo riguarda l'inclusione o meno delle criptovalute nei programmi politici per le elezioni del 2024 negli Stati Uniti. Mentre il Partito Democratico non ha menzionato il bitcoin o le criptovalute nella sua piattaforma ufficiale, il candidato repubblicano Donald Trump ha preso una posizione più favorevole. Trump, che in passato aveva espresso scetticismo nei confronti delle criptovalute, ora possiede oltre un milione di dollari in criptovalute e ha proposto la creazione di una riserva nazionale strategica di criptovalute. Questi sviluppi politici potrebbero avere un impatto significativo sul mercato delle criptovalute, a seconda di chi sarà eletto e delle politiche che verranno implementate. Ad esempio, se la vicepresidente Kamala Harris, che è considerata più favorevole alle criptovalute rispetto a Joe Biden, dovesse essere eletta, potremmo vedere progressi nella regolamentazione delle criptovalute che potrebbero stimolare ulteriormente il mercato. In sintesi, il mercato delle criptovalute è in una fase cruciale, con molteplici fattori che potrebbero convergere per creare un contesto favorevole per un aumento dei prezzi. L'interesse crescente delle istituzioni, le possibili modifiche alla politica monetaria e l'evoluzione del quadro normativo sono tutti elementi da tenere d'occhio nei prossimi mesi. Come sempre, è importante rimanere informati e pronti a reagire ai cambiamenti del mercato. Detto questo, grazie per averci seguito fino a questo punto. Non sprecare il prossimo volo cripto. Grazie per essere stati con noi. Se volete rimanere aggiornati sulle ultime novità del mondo cripto e non sprecarvi una criptoavventura, schiacciate quel pulsante seguimi e attivate la campanella. Pronti a partire? Allora ci vediamo nel prossimo video. Grazie.